Siamo a Gorla, è appena finita la 40 e ho concluso con un errore. Pippo, secondo te dove ho sbagliato? Secondo me l'errore è stato minimo sul numero 4 perché si è arrivato un pochettino troppo vicino con poche gambe. Il resto del percorso è stato ben organizzato e ha finito molto bene la cavalla nella prima fase. Soltava bene anche sui verticali oggi? Sì, oggi saltava bene anche sui verticali perché l'hai montata bene. E invece tu come sei andato visto che hai fatto la mia stessa categoria? Io non sono andato bene come te e ho fatto ritirato perché la cavalla non la sentivo come al solito. Vabbè capita. Come hai fatto a decidere di ritirarti? Come la sentivi per alzare la mano e decidere di finire la gara così? Io trovo che alla fine quando lavori con un metodo, con un sistema e arrivi a conoscere bene il tuo cavallo e quindi sai anche giudicare cosa c'è che non va. Se può essere l'imboccatura, se può essere una giornata storta del cavallo e allora quando non può venire un buon risultato e comunque portare a termine un buon lavoro è meglio alzare la mano secondo me. Ma avevi cambiato l'imboccatura? No, però oggi è una giornata particolare con questo vento, è fastidiosa, la cavalla è molto insanguata, può essere anche quello. Domani invece che gara pensi di fare? Domani sarò più attento e farò il Gran Premio come al solito visto che la cavalla si comporta bene di solito. E io? Anche penso. Allora in bocca al lupo per domani. Anche a te Marti, in bocca al lupo.